Una lapide per ricordare un pilota, il sergente Spencer, che trovò la morte proprio in questo luogo. Siamo sul greto del Cerco, in località Le Piagge dei Combattenti a Ghivizzano, dove nel lontano 4 giugno del 1944, il sergente pilota William Spencer tentò un atterraggio di fortuna con il suo Spitfire della RAF. Era reduci da un combattimento, forse nei cieli sopra la Controneria, nel territorio del comune di Bagni di Lucca. L'aereo era stato colpito e lui riuscì a individuare questa area per un possibile atterraggio di fortuna. Purtroppo impattò in un albero, quindi un'ala si troncò, l'aereo ebbe un rivaltamento e lui ebbe un schiacciamento al volto e al torace. Soccorso dalla locale Misericordia fu portato all'infermeria della Smi a Fornaci di Barga, dove morì dopo poche ore. A distanza di quasi 80 anni, i componenti dell'Associazione del Museo della Linea Gotica Garfagnana non hanno voluto ricordare questo sfortunato pilota inglese e lo hanno fatto in collaborazione con l'amministrazione comunale di Coreglia, ma anche grazie ad alcuni sponsor come Apuana Marmi, che ha fornito la materia prima, e i fratelli Turicchi, che hanno sistemato la strada di accesso. Così è stata posta questa lapide, posizionata sul punto esatto dell'impatto, al lato di questa strada molto utilizzata per passeggiate naturalistiche.